Ad un mese dall'incidente in cui perse la vita il povero professor Vogel lungo il Canal Grande è tutto come prima e l'assessore alla mobilità Ugo Bergamo lancia un ultimatum alle categorie. Se non si trova un accordo entro il 4 novembre deciderà il comune. Intanto in rete continuano a comparire immagini molto eloquenti di quanti rischi si corrono sul Canal Grande, anche nel bacino di San Marco, a causa del traffico di imbarcazioni di tutti i tipi, gondole, tope, battelli, barchini vari. Le immagini che vedete sono tratte da un video che circola in rete e che ha sintetizzato in 5 minuti quello che accade in 10 ore sotto il ponte di Rialto. Il comune ha fissato le nuove misure da prendere per la sicurezza della circolazione acquia in 26 punti, tra i quali limitazioni al traffico per i mezzi pubblici e non, con l'individuazione di percorsi fissi per le gondole e il divieto per le carovane dalle 9 alle 20. Il terreno è lastricato di insidie, però. Le limitazioni finiscono per intaccare gli interessi delle categorie dei trasportatori turistici e mercantili. Tanto che lo stesso Brunero Zacchei, segretario regionale Will, con delega ai trasporti, che parla di resistenza congenita della città e delle categorie per gli interessi vari contrapposti e definisce i 26 punti insufficienti per domare il traffico. E intanto continueremo a vedere video come quello girato dal veneziano Manuel Vecchina, che ha immortalato il passaggio in 10 ore di 700 taxi, 219 vaporetti, 216 barche e 209 gondole.